Finalmente Isonzo, l'avete chiesto a gran voce e siamo qui, sul fronte italiano, sulle Alpi Pronti a far bruttissime figure, perché come ben sapete io tutto sono tranne con fuoriclasse, con gli spada tutto in prima persona, ma non importa Quindi vado, sulle Dolomiti, cominciamo sulle Dolomiti Io ho una paura fottuta di quello che sta per accadere, ma non importa Ehm... Dunque, dunque, dunque Alpino Cecchino Cominciamo con un cecchino Eh? Per una volta Per una volta Però Madre santa, che impressione A me fa... Adesso Ma che... Non so se capita la stessa cosa che a voi, ma Combattere in giochi in cui io sono già stato mi fa un'impressione che voi non ci avete idea Allora, con molta... Con molta... Con molta calma oggi, eh Con molta calma Non favo le cose di fretta Prendiamoci il nostro tempo, perché questo non è code Ecco, cosa importante I ritmi qui Sono più bassi Sono più realistici Sono più... Bisogna agire di conseguenze Siamo in offensiva Quindi io mi schiero Mi spara, no? Con estrema calma Comunque è bello, vero, eh Devo capire Se vedo qualcosa O qualcuno Con molta calma Con molta calma Oh, se ne vedesse mezzo Vedo un sacco Preso 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 Porca miseria Ma con me che ansia Arrivano Ma è morto uno dei nostri L'importante è che nessuno mi veda Panico, vero, qua, eh Ok, lì ho visto sparire uno dei nostri Devo... devo spostarmi un po' Minnaggia Minnaggia la morte Stanno entrando, eh Preso Con molta calma Comunque io rischio che qualcuno mi sorprenda tipo alle spallissime Com'è la situazione qui, eh Siamo in controllo? Io... io scivolo giù Scivolo lentamente giù Porca miseria Non mi riesco Non mi riesco a muovere Preso Mi riesco a muovere Mi riesco a muovere E io c'ho la pala Sto bombardando esattamente dove sono io Non è una buona cosa Mannaggia sul colpo Preso 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 E' finita signori E' finita E' finita Ho sprecato Ho sprecato Ho sprecato il colpo Della vita Andò così Andiamo di Andiamo di Fuciliere Apriamo il fuciliere classico Ma stiamo sotto Bombardamenti pesanterrimi Mamma mia Sono arrivati Niente Il momento esatto In cui me lo stavo chiedendo E' arrivata la botta Fra capo e collo Assalitore Sì ma sempre Ha sempre questa C'ho Indipendentemente Da quello che è Sempre la stessa arma Mi prendo quella Del cecchino Allora A sto punto Molta calma Signori Un compagno Appena morto Passo All'altra parte Preso Preso Mannaggia a quel porco Mannaggia Mannaggia a quel porco Mannaggia Avevo fatto il colpo Della vita Avevo fatto La non c'è Se può andare Quindi Ripartiamo da qui Ragazzi Io non c'ho manco Un mirino A lunga gittata Per cui Che faccio Non me posso Un ventagra Anche E' una brutta Situazione E' una brutta Situazione Diciamolo E' una brutta Situazione Dove sta Semplicemente Piegato Ma Signori Molta calma Provo L'aggiramento Provo L'aggiramento No Non provo L'aggiramento Questo E' il momento Ideale Per usare Il cecchino Bene Bene Niente Ricaricherà Per i prossimi Ventisei anni Benissimo Mi bendo Non mi avrete Niente Mi sa che la stiamo Perdendo Questa Con questo Vachissimo Vachissimo Sospetto Ma vago Fase estremamente Problematica Dalla battaglia A sasso di sesso La situazione E' disperata La situazione E' disperata La situazione Il nemico Incombe Ma è praticamente Invisibile Sarà durissimo Io vorrei A cerchiarli Passando da Zone laterali Trovo puntualmente Trovo puntualmente Ok Preso Da un compagno Ma me sono andato Ma me sono andato A suicidare Praticamente Vabbè E' durissima Ne sono incastrato Cercavo Cercavo un passaggio Invece Ma t'avevo preso In pieno Perché non sei morto Nooo Nel momento In cui stavo Mirando Io Questa fase Siamo Siamo sotto Assedio Ma è Delirante In questo momento Siamo sotto Assedio Pesantissimo L'hanno fatto Completamente A pezzi Cerbro muro Bene Almeno Sono morto Con la mascherina Bene Bene Fa Piacerissimo Sto inanellando Una morte Dopo l'altra Senza soluzione Di continuità Ci hanno messo Ai margini Ci hanno messo Completamente Ai margini Preso Eh che cazzarola Ma che siete Immortali Sono i zombie De god Molta calma Ma chi Da dove Ah era quello Che è entrato Adesso Siamo sempre Sotto il fuoco Nemico Dovremmo Dovremmo cercare Di Riprenderci Un po' Di territorio Ma Sembra Un'impresa Titanica Ahimè 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 Bello Non è possibile Avevo 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 Preso il via Ma qui Ogni colpo Vi chiede una ricarica Di un quarto d'ora Guarda la gente Che Che mi crolla Impranto La disperazione Difendiamo Difendiamo La montagna E' ok Tosta come pochi Compagni che cadono Di continuo Ma non sto abbandonando Ma perché sono Ma non è vero Ma non è vero Ma non è assolutamente Vero Ero lì Ero lì Che camminavo Dove mi trovo Dentro Dove Dove sono Ma non voglio Ma dove cazzo Sono apparso Sono sponato In un punto Dove non c'entra niente Sponare Proprio Non c'entrava niente Spona qua Non so Mi sono incastrato Uno può farmi uscire Da qui Oh Finalmente Sono stato Gassato a morte Per fortuna Così posso uscire Da questa trave In cui mi ero ficcato Eeeh Allora A questo punto Andiamo di ingegnere Con Con Insomma Cercando di Ok stiamo Stiamo perdendo Malissimo Stiamo perdendo Inesorabilmente Senza grande Speranza Di successo Sta per finire In tragedia Che cazzo Ah Ci hanno conquistato Vabbè Eeeh Eeeh Finita in tragedia Davvero Però figata Nel senso Credibilità Massima Mi ha veramente Divertito C'ha questo grado Di tatticismo Che chiaramente Impone ritmi Completamente diversi Da quelli a cui siamo Normalmente abituati In gran parte Di shooter Più Popolari Ma Tanta roba Veramente Tanta roba Cioè Eeeh Eeeh E' stato E' stato divertente Anche per uno che appunto Non se ne intende Minimamente Non sono arrivato ultimo Che è cosa buona e giusta 9 kill sono state fatte 15 morti Ma c'è pure quella in cui sono stato Eeeh Praticamente Sopraffatto da una trave Penso sia una cosa Più unica che rara E' andata discretamente Per essere la prima volta Quindi ne sono Discretamente lieto Eeeh Detto ciò Ci sono una marea di mappe Ho visto diverse Tant'è che appunto Un singolo video Non sarà mai sufficiente Per Eeeh Vedere tutto Quello che c'è da vedere Dovremmo farne 20 Dei video Per capire un gioco Come i sonzo Ma le premesse sono buone Il gioco sembra molto solito Credo che gli appassionati Del genere Impazziranno Eeeh Per un gioco così Tenendo ben presente Che poi appunto Ci sono anche Possibilità di sviluppare Il Insomma I propri soldati C'è un sistema di Di sblocco Di varie cose Adesso qua per esempio Abbiamo Gorizia Fior Cengio Sabotino Eeeh Poi che altri abbiamo Carso Le tonomite Le abbiamo fatte E credo che ogni Ogni mappa Imponga poi Uno Uno stile Completamente diverso Però veramente È stata È stata per adesso Una bella sorpresa Raga fatemi sapere voi Ovviamente Mi rimetto Soprattutto a chi Ne capisce E E Magari seguo Questa serie di Di Produzioni Mai la più Vicina Rispetto a quanto Possa fare io Mi faceva piacere Semplicemente condividere Con voi questa Questa uscita Come sempre faccio E niente Fatemi sapere Noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima